Buonasera ai telespettatori di Rete 7, vediamo insieme le notizie di stasera e di domani. Intanto oggi e domani, semafori in manutenzione con agenti in centro incrocio in largo grosseto. Sino al 20 febbraio, deviazioni in Grugliasco per le linee 17, 38 speciale scuole e 98, sino al 22 novembre, deviazioni in Sant'Eda per le linee 45, 45 barrato e 99. Veniamo alle notizie di domani, mercoledì 21 novembre, sino al 23 novembre, dalle 7 alle 19, chiusura di via Viotti, tra via Monti di Pietà e via Pietromicca. Dalle 7 alle 16, domani, lavori edili in via Padova 29, sino al 30 novembre, dalle 8 alle 19, da domani, chiusura di via Barbarù, da via Santa Maria per lavori edili. Riprese di uno spot domani in centro città, a partire da Piazza Palazzo di Città, sino all'8 gennaio, vi ricordo, è in svolgimento al quinto padiglione di Torino Esposizione, Natale in Giosta. Alle 20.30 domani sera torna il basket al Palavella Fiat Torino Auxilium, Unix Kazan per Euro Cup. In svolgimento sino al 16 dicembre al parco della Pellerina, l'American Circus. Controlli in velocità domani in Poirino, in via del Baschetto. Non ci sono altre notizie, buona serata, buon viaggio e a domani.